Da due giorni è aperto 24H per fornire assistenza tecnica e supporto agli operatori e associazioni di volontariato intervenute per il terremoto che ha colpito il centro Italia, oltre che per monitorare la situazione in città, perché il mostro del terremoto ha devastato i paesi dell'Amatriciano e dell'Ascolano, ma dal 2009 ha lasciato profonde ferite anche all'Aquila dove si è subito attivata la macchina per fornire sostegno a coloro che ne avessero avuto bisogno. Abbiamo iniziato immediatamente, il COC alle 4 era già costituito, avevamo già tutte le funzioni attivate e un numero di personale alle 4 già di 30 persone, perché tutti quanti si sono attivati e sono arrivati immediatamente, quindi abbiamo attivato tutta quanta la struttura, da una parte la struttura legata proprio al Comune e dall'altra parte tutto il mondo del volontariato, perché immediatamente abbiamo presidiato tutte quante le aree di attesa più importanti del Comune dell'Aquila, in particolare nel centro storico, in maniera che ci fosse un punto di riferimento per la popolazione e avessero subito delle informazioni coordinate da noi. Eravamo coordinati via radio con i volontari già dalla sera precedente perché erano stati tutti quanti attivati per la perdonanza e quindi abbiamo avuto immediatamente il riscontro con tutte quante le nostre organizzazioni. Quindi abbiamo aperto anche delle aree di accoglienza, perché Murata Gigotti e Piazza Darmi erano già pronte ed operative già alle 5 e mezza come punto comunque di accoglienza per la popolazione che avesse avuto bisogno di informazioni e anche di qualche genere di prima necessità. L'aeroporto di Preturo alle 5 e 20 era già operativo e quindi sono cominciati ad arrivare i soccorsi anche attraverso l'aeroporto. Da qui si coordina anche l'invio degli aiuti e dei beni di prima necessità, anche se dalle zone del terremoto l'invito è quello di non inviare ulteriormente cartoni e casse di vivere scatolame, perché i centri di raccolta sono stracolmi, grazie alle norme solidarietà che hanno dimostrato tutti gli italiani. Attualmente nelle zone terremotate arriva la notizia di non portare più niente, in quanto i beni di prima necessità sono già abbastanza soddisfatte, quindi evitiamo di incolfare magari ulteriormente il sistema.